Il manuale del perfetto contadino è disponibile su Amazon. Buongiorno a tutti e bentrovati nell'angolo verde di Angela oggi con un nuovo video. Quest'inverno ho comprato delle viti della varietà Zibibbo. Questa è una di quelle che non avevo e così approfittando di alcuni acquisti ne ho comprate 10. In attesa di piantarle a fine inverno le metto interrate e a riparo da venti e gelate. Dopo aver fatto una buca le ho posizionate e quindi coperte in attesa di collocarle per quest'anno nei vasi poiché voglio avere la certezza che tutte riescano a radicare. Siamo alla fine di febbraio e oggi le metterò nei vasi. Ho preparato del terreno in precedenza concimato quindi riembio i vasi comunque abbastanza capienti e lì pongo una vite per ogni vaso e schiaccio con le mani la terra per togliere eventuali bolle d'aria completo tutte le viti e quindi do una leggera innaffiata affinché la terra si compatizzi ancora meglio non rimane che attendere l'arrivo della primavera e quindi il loro sviluppo. Spero di essere stata utile con questo video se avete delle domande non esitate a contattarmi nella mia pagina facebook di cui trovate il link se invece avete dei problemi con le vostre piante contattatemi e io eventualmente realizzerò un video per cercare di darvi un aiuto a me a questo punto non rimane che salutarvi e come dico sempre alla fine di ogni video ciao e una buona giornata a tutti